Sette ergassoli senza isolamento diurno. È una richiesta di condanna pesantissima, quella formulata dal PM antimafia di Reggio Calabria, Sara Merio, al gruppo distrettuale Maria Rosaria Savaglio, per i sette imputati accusati di aver programmato e compiuto l'omicidio di Giuseppe Canale. Avvenuto il 12 agosto del 2011 a Gallico, quartiere alla periferia nord della città, nella faida intercorsa tra le cosche del territorio. Il carcere a vita è stato invocato per i presunti esecutori e mandanti del delitto, maturato per vendicare l'omicidio di Domenico Chirico, freddato invece il 20 settembre del 2010. Per gli altri due imputati l'accusa ha richiesto una condanna a 18 anni di carcere per Diego Zappia, mentre per Salvatore Figliuzzi sono stati invocati i 14 anni. Quest'ultimo, originario di Sant'Angelo di Gerocarne, è il giovane killer ritenuto vicino a Epatania di Stefanaconi, nel Vibonese, che subito dopo l'arresto eseguito dai carabinieri, ha deciso di collaborare con la giustizia e agli inquirenti ha svelato dinamiche e ruoli. Il gruppo criminale Vigallico lo avrebbe pagato 10.000 euro per portare a compimento l'agguato, un agguato che però venne ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio e che ha permesso all'antimafia dello stretto di chiudere il cerchio sull'omicidio canale. Angela Panzera per la CINUS24